Innanzitutto noi avevamo raggiunto un picco di circa 140-150 contagi, siamo a poco più della metà, 73-74 casi, con un calo. È chiaro che dipende molto dai comportamenti, le feste che ci sono state hanno prodotto ulteriori contagi, anche se nelle famiglie e così via. Quindi c'è un calo, c'è la necessità di accelerare non solo sugli ultrassettantenni, dove tutti vanno a Pesero, ma come ho detto ieri mattina di un colloquio telefonico all'assessore, c'è la necessità in questa area di fare i vaccini per tutto il resto della popolazione, speriamo prima dell'estate con tutta la diversificazione dei vaccini che abbiamo a disposizione e di farli qui da noi. Noi abbiamo fatto un paio di ipotesi, cioè la Casa della Salute, che è la cosa più naturale, anche se ci sono dei problemi di parcheggi. Ci è venuto in mente ieri come giunta la zona industriale, la mensa di Talacchio, dove c'è un parcheggio enorme, se fosse condivisa anche dagli altri comuni, e l'assessore ha detto che dobbiamo lavorare insieme perché si potrebbe dall'inizio di maggio, quando disporranno tutti i vaccini, anche pensare ad un punto di vaccino, insomma di vaccinazione in quest'area, dove ovviamente eviteremmo di portare 30-40 mila persone a Pesero, e quindi farli o nella zona industriale di Talacchio o nella Casa della Salute sarebbe quanto mai opportuno. Ho avuto questa disponibilità che spero si possa realizzare, insomma. Replicare quello che è stato fatto con gli screening dei tamponi è possibile con quello dei vaccini? Sì, io penso proprio di sì, insomma, nel senso che quando noi abbiamo fatto lì nella palestra, e qui si tratta di vedere anche tecnicamente se gli serve tutto il giorno, perché le palestre sono tutte anche impegnate, mentre la mensa di Talacchio sarebbe libera giorno e notte, quindi potrebbero fare i vaccini e disporne quando vogliono loro, sarebbe, diciamo, importante perché c'era bella soddisfazione da parte dei cittadini verso la regione, verso i comuni, verso le istituzioni, erano tutti contenti quando abbiamo fatto i tamponi al Palavitri a Montecchio, insomma, dopodiché se è alla Casa della Salute, al Palavitri oppure alla zona della mensa di Talacchio, dove c'è un parcheggio enorme, è importante che si facciano qua su.